Ok, via! Signore e signori, benvenuti... ...alpici blu! Capri boccanatte... ...con dado blu! Ci rimanete con noi... ...nel mondo magico del borgo... ...e vedrete le reglie! Bego! ...l'uwewe, Vivono e si ritrovano molti pescatori. L'ho fatto, non serve,掰掰iate. È un po' di dobbолi pescatori e esistono come creare ancora un po' che c'è il piano. Abbiamento al canale fornito per aver guardato il piano. Avevate che, secondo una leggenda, le prime persone ad andare qui furono spagnole. Era il XVI secolo quando una nave spagnola fondò proprio davanti alla spiaggia. Tra loro c'era la famiglia Donderos, da cui pare discendere il signor Dodero, che abbiamo intervistato per lui. Ma Bocca d'Asse, perché si chiama Bocca d'Asse? Perché sai la strada via Bocca d'Asse, quella che porta giù con le macchine fino a giù dalla gelateria? Nel pezzo di sotto, anche quella via Bocca d'Asse, c'era un torrentetto che si chiamava Asse. Si chiama il torrente Asse perché è solo stato Bocca d'Asse, quindi è Bocca del torrente Asse, quindi da questo Bocca d'Asse. Ecco qua, facciamo l'intervista loro. Ecco qua, facciamo l'intervista loro. Grazie. 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 Grazie.